Se ti occorre una voce professionale per i tuoi video o ti serve doppiare le tue produzioni in lingua straniera, non hai più bisogno di uno studio di registrazione specializzato, tempi lunghi e grandi budget. Con YouVoices, migliaia di speaker professionisti in oltre 100 lingue sono a tua disposizione per registrare un trailer, uno spot promozionale, una segreteria telefonica, un documentario. E se hai bisogno di una registrazione sincronizzata in cui una frase sia allineata ad un preciso timecode, nessun problema, possiamo farlo. Scegli la voce che preferisci direttamente online, ricevi in poche ore un preventivo personalizzato e confermi l'ordine compilando un modulo che ti aiuta a fornire tutte le indicazioni necessarie a realizzare il tuo voiceover. Soltanto pochi clic e... Voilà! YouVoices riceve il tuo ordine e lo gestisce aggiornandoti sulle varie fasi della lavorazione. In poco tempo potrai scaricare il file audio nel formato desiderato e utilizzarlo così nel tuo progetto. Visita ora www.youvoices.com